Ecco qua, questo è il getto della Scarion, impressionante, è impressionante anche la corrente che arriva da via Cibie, incredibile, questo non l'avevo mai visto, questa fa impressione, è veramente impressionante, non credevo che anche qui... Ecco qua, qua fa paura, qui fa davvero paura, questa è via Cibie, questo è l'accesso che da via Girola dà via Cibie, è impressionante, ci sono altri pozzi là, sembrano più che altro pozzi neri, non si sa da dove si erano venuti fuori tutte queste macchine, chi le abbia fatte accedere di qua, però qui vi garantisco che è impressionante, il rumore è il getto dell'acqua che fa paura, adesso l'acqua comunque è al di là del pozzetto, non so se viene anche da qui indietro, sembrerebbe originarsi anche qui, per lo più. Grazie a tutti! Grazie a tutti!